Numero 5. Le lenti a contatto Acuvio Oasis One Day sono l'ultima novità nel mondo delle lenti a contatto giornaliere. Con una idratazione al 38% e un flusso di ossigeno del 98%, queste lenti garantiscono una comodità estrema per tutta la giornata. Ideali per coloro che trascorrono molte ore al computer, offrono una perfetta ventilazione agli occhi, mantenendoli freschi e riposati. Grazie alla loro versatilità, sono adatte anche per chi soffre di astigmatismo. Puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione. Numero 4. Le lenti a contatto giornaliere Acuvio Moist One Day sono il prodotto ideale per chi cerca comfort e praticità. Con la loro tecnologia Lacreon, garantiscono una sensazione di freschezza e idratazione per tutto il giorno. Ma non è tutto, grazie al filtro UV integrato, proteggono gli occhi dai raggi dannosi del sole. Perfette anche per chi ha problemi di presbiopia e astigmatismo, sono disponibili in diverse diottrie e nel formato da 30 lenti, per un uso comodo e senza complicazioni. Acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione. Numero 3. Le lenti a contatto giornaliere Bosch e Lomb Biotrue On Day sono la scelta ideale per chi desidera un prodotto innovativo e altamente performante. Queste lenti giornaliere sono disponibili nelle diottrie da meno 12 a più 6 e sono dotate di un filtro UV per una maggiore protezione dagli agenti esterni nocivi per gli occhi. La loro caratteristica principale è il materiale che favorisce l'idratazione, garantendo comfort e benessere anche per lunghi periodi di utilizzo. Trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione. Numero 2. Perfette per chi cerca comfort e praticità, queste lenti sono veloci e facili da mettere, oltre ad essere estremamente morbide sulla delicata superficie oculare. Con una vasta gamma di diottrie disponibili, da meno 15 a più 8, queste lenti offrono una visione nitida e chiara per tutta la giornata. Grazie al loro diametro di 14 mm e alla curvatura di 8,7 mm, si adattano perfettamente alla forma del tuo occhio per una maggiore comodità. Trovi il link con il prezzo di questo prodotto in basso nella descrizione del video. Numero 1. Le lenti a contatto giornaliere Alcon Dailies Total 1 sono una scelta eccezionale per chi cerca una visione chiara e confortevole. Queste lenti giornaliere sono disponibili in una vasta gamma di diottrie, rendendole adatte a molte esigenze diverse. Grazie alla loro morbidezza, si adattano perfettamente all'occhio, garantendo un comfort duraturo. La loro scheda tecnica è completa e precisa, mettendo in evidenza le loro dimensioni e caratteristiche, come il diametro e la curvatura ideale. Inoltre, la percentuale d'acqua del 33% le rende estremamente idratanti per l'occhio. Se ti interessa questo articolo trovi il link in descrizione.